Ciao a tutti ragazzi sono MarioG10 e bentornati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Allora oggi siamo qui in questo nuovissimo video su Brawl Stars Perché ragazzi andremo a provare la nuovissima mappa ovvero Guardiani dei Trofei Ovviamente prima di iniziare con il video vi raccomando iscrivetevi al canale Attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video Vi raccomando iscrivetevi se non siete ancora iscritti perché è molto molto importante Inoltre vi invito a entrare nel club ufficiale del mio canale youtube Si chiama così vi raccomando entrate perché ognuno di voi che entrerà io lo saluterò nei miei video appunto di Brawl Stars Infatti saluto GX Boss, Vincenzo341X e Amograx per esserci iscritti al mio club di Brawl Stars Vi raccomando fatelo anche voi se volete essere salutati nei prossimi video Detto questo appunto in questo episodio proveremo la nuova mappa ovvero Guardiani dei Trofei Detto questo iniziamo E inoltre ragazzi ci porteremo anche Colette al grado 10 Perché mi mancano appunto 16 coppe E io ho portato tutti i Brawler al 20 E devo portare questi ultimi tutti al 10 E mi manca solo Colette Quindi oggi la porteremo inoltre E proveremo appunto questa nuova mappa Andiamo subito a giocare Sono veramente curioso perché non mi sono informato Su come appunto funziona questa mappa E quindi andiamo Ok Guardiani dei Trofei Quindi forse ho capito Che magari credo dovremmo difendere questo trofeo Ok ok quindi Dobbiamo cercare di difendere questo trofeo E difenderlo appunto al più lungo Così che la squadra che lo conserva Al punto al più lungo Vince la partita Va bene ho capito ho capito Ok Aspettate che Già allora sono in vantaggio di molte E questa cosa non mi piace affatto Allora ok 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 ho ucciso a E a quello appunto che aveva il trofeo E ora ce l'abbiamo noi ok teniamolo Teniamolo ragazzi teniamolo teniamolo Eh è da solo però Non so perché se lo sia portato nell'angolo Però ok 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 noi dobbiamo difendere ora il nostro Alleato Frank Che al punto Il trofeo Siamo vicini al loro punteggio Quindi dai Eh però io con colette in questa mappa Non è insomma diciamo Molto buona colette in questa mappa Quindi Ok 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 Abbiamo preso il trofeo Ok Momentaneamente lo stiamo tenendo più a lungo noi Però l'ho perso Porca miseria L'ho perso ragazzi Ah si può anche lanciare ok Ok quindi questo trofeo si può anche lanciare Molto molto buono Lo prendiamo E ora ce l'hanno loro Però anche se siamo Sempre in vantaggio noi È come punteggio Però ce l'hanno loro adesso Cavolo E ora sono avanti loro Ok No però Frank Tu mi devi aiutare a ucciderli Cavolo Eh ce l'hanno sempre loro ragazzi Eeeh Mi sa che abbiamo perso Abbiamo perso Ragazzi purtroppo abbiamo perso la prima partita Quindi andiamo con la seconda E cerchiamo almeno di vincerla Appunto come vi ho detto So che colette in questa mappa Non è granché Però ragazzi Io ho bisogno di portarmela Al grado 10 E quindi la devo per forza mettere Intanto perché il nostro Beryl sta fermo Passa 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 Cavoli Ok 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 Beryl Si è risvegliato dopo che ci hanno preso il trofeo Ottimo Intanto io qua che Sprego La super Ottimo C'è rosa qua Madonna Quanta vita rosa Ma dove cavolo Se è una Scosta Mori Mori Non so perché Sto uccidendo questa rosa Quando Dovrei prendere il trofeo Però dettagli Ok Siamo qua dentro Non credo le motte le vedano Dentro al cespuglio Speriamo almeno di no Dove cavolo va Beryl Deve aiutarmi a difendere Non deve sprecare la ulti Rotolando Da una parte All'altra della mappa Come sta facendo Porca misera Uccidiamo questa Shelly Ok rosa Non l'abbiamo uccisa Però se Beryl Non utilizzasse Non sprecasse La sua ulti Magari Avremmo qualche possibilità Di fare qualcosa No Ok Siamo morti Raga Questa la dovremmo vincere Ora Non la vorrei gufare Però Siamo al 96% 97% 98% 99% E 100% Ok Abbiamo vinto Abbiamo vinto questa partita Molto molto buono E sono stato Anche il migliore E Appunto in questa partita Molto molto bene Ragazzi Molto molto bene Più 8 coppie Ci mancano solo 10 coppie Per Portare Colette Al grado 10 E quindi Credo che faremo Altre Due Partite Andiamo Con la Terza Ragazzi Dai 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 Allora Loro hanno Bell Buzz E Colette Una bella Commune Però abbiamo Jessie Che È molto Forte In questa Mappa Credo Ok Ok Sto tenendo il trofeo io Ok Raga Devo dire che questa mappa Mi sta piacendo Veramente molto bene Molto Cioè Mi sta piacendo tanto Scusate Solo che Ho capito che Per difendersi Uno deve avere Una buona combo Perché ovviamente Quando Bisogna Attaccare Cioè Quando bisogna Prendere il trofeo Comunque E quando bisogna Difenderlo Deve avere Una bella combo Intanto io sono rimasta Due di vita Perché Diciamo chiaro Uno Non è che può difendere Con Due brawler Scarsi Comunque Deve esserci Una buona combo Per Difendere il trofeo Ecco Quindi Allora Loro stanno tenendo Il trofeo Ma Momentanamente Siamo lo stesso In vantaggio E noi Ovviamente Di percentuale E quindi A noi Sta bene Così Allora Allora Madonna mia Ragazzi Buzz è illegale Non muore mai Ragazzi E poi Ti fa la volta Ovviamente Ti uccide Ragazzi Devo dire Che Buzz è Veramente Veramente Illegale E poi Non capisco Come ce l'abbiano Tutti E io Ancora Non l'ho Trovato Ottimo Ragazzi L'ho Preso Ok Ma perché Sono così Lento Difendetemi Però voi Dietro No Eh Ragazzi Ma non mi difende Nessuno Come faccio A portare il trofeo Se tutti Sparano A caso E nessuno Mi difende Cavolo Ragazzi Dobbiamo difenderci C'è vicenda Eh Ok Gio Ci c'è Colette Qua c'è Il Buzz Che Stranamente È stato ucciso Stranamente Perché Ha la vita Che è più lunga Veramente Di non so cosa E abbiamo vinto E abbiamo vinto Ragazzi Grazie a Lou Che ha tenuto Il trofeo Per un bel po' di tempo Abbiamo vinto Stavolta è stata Molto Molto Sudata Però Ce l'abbiamo fatta Ci mancano solo Due coppe Per il grado 10 Quindi ragazzi Io direi Di farci L'ultima partita E poi Di chiudere Questo Video Ok ragazzi Ci siamo Siamo in battaglia Io parto Da dietro Va bene Allora Ok 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 Ma Non so perché Spunta che Buzz È un bot Non so se È il nome Che Si è voluto Mettere È proprio Un bot Ragazzi Se Buzz È un bot Veramente Siamo Avvantaggiati Stranamente Per questa partita Uccidiamo Al colonnello E mi ha ucciso Pure lui E non so perché Il nostro colonnello Butti Scusate Il trofeo Dall'altra parte Quando Dovremmo cercare Di prenderlo Per Alzare La nostra percentuale Anche se Momentaneamente Siamo comunque In vantaggio No mi sa che Buzz Non è per niente Un botto Ma che si è voluto Mettere questo nome Mentre mi cade Il meteorito Addosso Ok ora Sono in vantaggio Loro Dobbiamo stare Molto Molto Attenti Uccidiamo Questo Buzz Non l'abbiamo Mai preso Nella vita Ci abbiamo Solo provato Ok Ok Adesso abbiamo Preso il trofeo Colonnello Lei non deve Portare il trofeo Dall'altra parte Perché se no Questi ingordi Ce lo rubano E vabbè Niente Regà Non lo capiscono Mi sa che Perdiamo anche Questa partita E poi la devo fare Offline L'altra Perché se no Il video dura 20 minuti Non credo che Uno si possa vedere 20 minuti Di uno che perde Su guardiani Dei trofei Quindi Sono all'80% Della percentuale Ragazzi Quindi E mi sa che hanno vinto Mi sa che hanno vinto Ragazzi Mi sa che hanno vinto No Aspettate perché Il trofeo è qua Capito Però regà Non sono difeso Da nessuno Non sono difeso Da nessuno Meglio come faccio A portare il trofeo Se nessuno Se non c'è nessuno Che mi difenda E vabbè Ok Attenzione perché Potremmo recuperare Madonna mia Regà Buzz è illegale E Illegale Sia di vita Sia di Dei colpi Che dà Cioè E È illegale Buzz ragazzi E Fottutamente Illegale Attenzione ragazzi Perché stiamo Recuperando Mancano 8 secondi 7 6 5 Non ce la facciamo Mi sa ragazzi Non ce la facciamo E già Abbiamo perso anche questa partita Ne abbiamo perse Due Peccato Peccato ragazzi Vabbè Noi la mappa Guardiani dei trofei L'abbiamo provata Adesso Offline Mi faccio Giusto Una partita Sperando di non Droppare Con colette Giusto per portare A 10 E poi direi Che possiamo Concludere Questo video Ok ragazzi Stranamente Mentre non Registravo Ho vinto Appunto La prima partita Che ho fatto Sempre nella mappa Ovviamente Guardiani Dei trofei E ho portato Colette Al Gerardo 10 Finalmente Ce l'ho fatta Ragazzoli belli Io spero Che questo Episodio Su Brawl Stars Dove Provavo La nuova mappa Guardiani Dei trofei Vi sia Piaciuto Noi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Vi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate La camparellina Per non perdervi I prossimi video Vi raccomando Lasciate Un bel Pollicione All'insù Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao belli